Ciao amici, bentrovati sul canale. Oggi faccio un video veloce di disgusto, di sdegno, di critica. Quello che vi farò vedere tra poco riassume in pochi secondi tutto ciò che c'è di sbagliato nel nostro mondo, specialmente quello del mondo occidentale. Adesso non vado a criticare l'Italia perché alla fine siamo un po' tutti nella stessa barca. Guardate. Non pedalare al lavoro per andare a lavorare, ma pedalare al lavoro. Il nostro Italy Team ha fatto un grande lavoro a riimmaginare il loro workspace negli ultimi due anni. Il nuovo ufficio Milano Casa Sigentia vive nei nostri principi di Future of Work. Loro spingono per la collaborazione, l'innovazione, la produttività e il well-being, creando un flexible work environment. Cioè, va bene tutto. Ma avete visto? Questo qua pedala con la mascherina, promuovendo un well-being, collaborazione. Non so, non hanno parlato di sostenibilità e di rivoluzione green perché pedalando potrebbe caricare la batteria del suo laptop e evitare di creare CO2. Si sono dimenticati la sostenibilità ambientale.